ragazzi buonasera ecco la versione 2.0 della focaccia ad alta idratazione devo ancora migliorare a distribuire la focaccia che ho paura di rompere le bolle e poi mi si appiattisce come è successo qui però sono soddisfatta guardate quanto è bellina bella appena sfornata morbida morbida bella idratata si è molto buona sono soddisfatta che ne pensate voi?